questi sono i due prodotti che ho usato per lavar la macchina uno è questo shampoo con proprietà antiossidanti e questa è la cera devo dire che sono molto contento www.mesmerism.info ecco eccoci qua praticamente nonostante abbia piovuto e sia andato per strada non ha ecco si sente appena un po di polvere no si sente visto si vede un po di nero della polvere in effetti ho fatto un po di strada ok però ecco rimane abbastanza chiara pulita limpida una cosa che se la lavi normalmente non succede qui all'interno ancora si vede quella patina che ho messo che adesso non mi ricordo più come si chiama comunque era anche questa qui per evitare l'ossidamento all'interno delle fessure e caspita quello shampoo devo dire che è ottimo anche qua no qua è rimasto tutto bello coperto e poi prossimamente glielo darò ancora però questa volta glielo do più professional nel senso che perché l'altra volta quando l'ho messo mi era rimasto poi tutto sporco qua ai lati no allora questa volta gli metto lo scotch tac 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 e dopodiché gli mettono a fare capito visto qua ancora rimane un pochettino adesso sono proprio contro sole però qua è rimasto un po' no però alla fine alla fine alla fine è andata molto bene e questo qua ho visto che l'acqua dopo aver lavato con questa cosa antiossidante e mettendo quella cera l'acqua gli scivolava proprio sopra infatti dopo tre giornate dopo tre giornate di pioggia senza precedenti no è rimasta bella pulita senza macchie a parte magari queste qua così no però è rimasta direi ottima no mi dà qualche problema però guarda è bella è non so se farla nera devo vedere se farla nera o farla bianca bianca riprende il tettuccio di sopra nera mi riprende il parafango noto che le luci si sono opacizzate queste luci qua anche questa non si vede più molto bene si è opacizzata la luce vuol dire che queste due qua questa e la sua amica le devo cambiare a breve le dovrò cambiare perché sono tutte opache e in più devo mettere dei nuovi fari qui si nota ancora quella pasta che avevo messo lo scorso anno che praticamente è ancora dentro spero spero che tenga i fanali non hanno più l'umidità dentro per ora colgono umidità vuol dire che quando piove forte entra acqua poca ma entra questo è qua tra un po si aprirà tutta la baracca non so se si vede in capito visto tutte quelle bollicine queste sono come la vitiligine piano piano si aprono non so se vede in capito 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 Grazie a tutti